Sua eccellenza, arcivescovo di Milano, Monsignor Delfonso Schuster. Sua eccellenza, arcivescovo di Torino, Monsignor Maurilio Fossati. Comandante difesa territoriale di Milano, Generale Vittorio Duggeri. Comandante corpo d'armata di Roma, Generale Calvi di Bergolo. Veloce, veloce, veloce. Ma perché non avete aspettato ancora qualche giorno? Non era possibile. Gli americani ce l'hanno imposto. Ma così avete condannato Mafalda. Non potevo fare diversamente. Potevamo almeno avvertirla. Avremmo rischiato di compromettere le trattative. Queste erano le condizioni dell'armistizio. Ma queste sono condizioni capestro. È la sorte che aspetta agli sconfitti. E noi lo siamo. E comunque il Generale Castellano non aveva alternative. Ma dove va? Non lo so. Ma dove va? Non è più veloce. E noi lo so. Ma dove va?bel'LS Grazie a tutti.